...a questo grande maestro con un grande tributo, perciò la musica di Ezio Bosso è la grande passione e i grandi passi dei nostri talenti. A voi il tributo a Ezio Bosso! Io non ti so dire che sono felice, però ti so dire che tengo soltretti i momenti di felicità. Impariamo di più a emozionarci per muoverci in avanti. La musica è una vera magia. E' una musica che è venuta da me, come se non è che ne avevo più bisogno degli altri. In fondo quello che mi è successo per un anno mi ha tenuto completamente senza, non la capivo, la ricordavo, ma non riesco proprio ad ascoltare. Neurologicamente ho reagito grazie all'amore di chi era vicino, alla stima di chi era stato vicino prima, anche a quel dire semplicemente la ricetta è cambiata. Il viaggio di chi era vicino. Una cosa che ci insegna la musica è proprio che nei momenti in cui ascolto non ho più paura. Ho avuto la vita per la biglia. E' vero che una vita meravigliosa vuol dire anche aver dato e amato. Questo fantastico tributo al grande maestro Ezio Potto con le magistrali coreografie dei nostri spettacolari ragazzi.